Ancora segnalazioni da parte dei cittadini per le condizioni del manto stradale nella città di Foggia. Ecco quelle in un tratto di Viale Giotto dove tra marciapiedi sconnessi, manto stradale dissestato e complessa la percorrenza. Segnalazioni da giorni ci giungono da alcuni residenti della zona, per lo più persone anziane costrette a prestare particolare attenzione per non finire in quelle che vengono definite vere e proprie voragini. Da Viale Giotto poi si passa in una zona centrale lungo via Marchese de Rose e via Scrocco dove i residenti lamentano la mancanza di ripristino corretto delle arterie stradale dopo alcuni lavori effettuati da alcune ditte. Lavori che avrebbero reso ancor più complessa la situazione della viabilità in quel tratto di strada e per cui i residenti chiedono interventi urgenti di ripristino.